E il Movimento 5 Stelle di Isernia entra in merito alle indiscrezioni sulla nuova legge elettorale del Molise, afformando una categorica contrarietà all'eventuale circoscrizione unica proposta dalla maggioranza del centrosinistra. Dai tanti segnali politici provenienti dall'enturace del presidente Frattura, si apprende che la maggioranza di centrosinistra sarebbe molto favorevole alla proposta di una legge elettorale regionale che preveda in Molise una circoscrizione unica. Parte da questi elementi la spinta ad un categorico no da parte del Movimento 5 Stelle, in particolare dal gruppo di attivisti di Isernia, che ha raccolto come di consueto le opinioni e i pareri di tanti cittadini che hanno sentito l'obbligo di dire la propria su un percorso di regole elettorali che garantissero ogni elemento di democrazia e partecipazione. Così, criticando la eventuale scelta della maggioranza in regione, ricordano ai molisani che il Movimento ha presentato una propria proposta di modifica dell'attuale legge regionale, dove ha previsto due circoscrizioni corrispondenti ai due territori di Campobasso e di Isernia. Nello specifico, si conciliano le varie situazioni negli ambiti di una sorta di equilibrio, perciò per la circoscrizione di Isernia si prevede l'assegnazione per legge di almeno sei consiglieri regionali. Il problema che evidenziano gli attivisti del Movimento 5 Stelle è rappresentato letteralmente dal fatto che se dovesse passare la proposta voluta dalla maggioranza di centrosinistra, il territorio di Isernia rischierebbe di concreto di essere ancora più penalizzato e definitivamente devastato. Intanto, sottolineano come i paladini della provincia di Isernia, che fanno parte della coalizione di centrosinistra, in primis Vincenzo Cotugno e Massimiliano Scarabbeo, ad oggi non hanno ancora detto una sola parola sulla proposta del loro leader, nonostante proprio essi hanno presentato proposte diametralmente opposte a quanto intende approvare l'attuale governatore del Molise.